Giovanni, quanto non stai di me, con l'orgoglio non si può ritornare ad amarci, mai, si firma Luciano è il vostro amico e poi c'è Michele che dice a mia moglie Elena un saluto anche a tutti voi di Radio Subasio e poi io torno a raccomandarvi di firmare sempre i vostri messaggi, ma con il nome per esteso ovviamente, a questo mi riferisco quando vi dico metteteci il vostro nome, non mi lasciate solo con le vostre iniziali che sono di una tristezza sconcertante, le iniziali da N al P, no, non si può, non si può vedere, non si può sentire una cosa del genere, quindi mi raccomando chiamate sempre i vostri messaggi con il vostro nome per esteso, non vi chiediamo il cognome, il codice fiscale e nient'altro, solo il nome, semplicemente 20 e 57 minuti primi, abbiamo anche Max Pezzali, ultimo motivo del programma per il Jukebox di Radio Subasio con Ianni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.